Sono Antonio Maria Orecchia, sono ricercatore di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria e insegno Storia dell'Italia Contemporanea e Storie del XX secolo presso il corso di laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo. Tra i vari filoni di ricerca che ci contraddistinguono ne sottolineo uno il processo di costruzione di guida e di indirizzo dell'opinione pubblica. Il tema è molto importante e pur guardando il passato in realtà si rivolge al futuro perché le democrazie oggi vengono definite come governo di opinione. La persona vota secondo l'opinione che si è costruita. Ecco il nostro gruppo di ricerca indaga, studia, cerca di comprendere i processi di costruzione e di indirizzo dell'opinione pubblica. Lo sguardo è rivolto al passato ma naturalmente anche al futuro. L'università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi. Grazie. 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 Grazie.